Buonasera a tutti, abbiamo benvenuto a questa serata al circolo dei lettori e questa sera, come avrete letto, affronteremo un discorso, un argomento, una forma di espressione e un artigianato che viene chiamato poesia e ha un po' il fiatone, però si sente. Comunque ho fatto un Covid un po' serio e allora continuo ancora a ricordarmi che devo ricordarlo a me stesso che l'ho fatto. Allora, io mi chiamo Tiziano Fratus, ho avuto il piacere di organizzare questa piccola serata e ho chiesto, insomma siamo amici quindi siamo qui insieme per fare un bellissimo incontro, spero, con Silvia Rosa, Valentino Fossati e Valentina Colonna, che conoscete penso tutti, tra l'altro è uscito un paginone sul Corriere, che vergogna, sul Corriere della Sera in cui insomma come è giusto che sia, insomma i poeti dovrebbero meritare, se sono bravi almeno, anche delle belle pagine sui quotidiani, cosa abbastanza rara, almeno qua a Torino devo dire, non accade così spesso, quindi lei ha avuto questo piacere, questa sorpresa in questi giorni, insomma, è solo un merito turo, non è un merito di nessun altro. Grazie a te. Va bene, quindi questa sera faremo questo piccolo incontro in cui noi, forse avete letto sia il titolo della serata, il giardino dei poeti, siamo andati un po' sul facile come titolo, e poi anche la traccia che abbiamo dato, ovvero che cosa può essere, che cosa vuol dire scrivere e leggere poesia oggi, che è un tema che cercheremo di affrontare non solo condividendo con voi le poesie, alcune delle poesie, non tutte le poesie, ma alcune delle poesie che ognuno di noi ha scritto, ma anche rapportandosi magari all'esperienza, insomma ci sono poeti fra di noi che nonostante non siamo ancora completamente vitusti, comunque abbiamo già magari 25-30 anni di esperienza nei confronti della poesia, altre persone che per fortuna loro sono leggermente più giovani, ma insomma poche stagioni, e quindi questo è un lasso di tempo che ti permette anche di poter fare esperienza di una forma di espressione che non è affatto così semplice. Io credo una delle cose interessanti sarebbe anche discutere sul fatto, per esempio, quanto è cambiata la tua aspettativa come poeta, come poetessa, nell'arco del tempo, cioè quando tu hai 20 anni o 15 o 25, insomma quando uno di noi si avvicina alla poesia, alla letteratura, che cosa sogna, che cosa ambisce, quali sono le sue aspettative, insomma, che cosa attraverso questa forma di espressione cerca di raggiungere, di avere o di dire come lo vuole dire. E poi invece dopo magari 15-20 anni di esperienza che cosa uno è arrivato a pensare di questa sua avventura, se mantiene fede alle promesse, ai desideri che aveva all'inizio, se invece è cambiato molto, se invece l'aver conosciuto i poeti ti ha cambiato, se invece il fatto di aver conosciuto gli editori di poesia ti ha segato un po' le gambe, cosa che devo dire in generale un po' succede, e tante altre cose. Adesso io la butto sempre un po' sul leggero, però in realtà c'è dietro semplicemente il riconoscimento del fatto che la poesia, come tutte le forme di arte, di espressione, di scrittura, è una cosa abbastanza seria, anche se poi magari uno la affronta in maniera un po' più leggera, però è impegnativa e se uno non la fa soltanto come tempo perso, come dire, ma veramente ci crede e si cala dentro questa avventura per una parte della propria vita, è qualcosa che può condizionare molto la tua esistenza, insomma, rientra proprio nella tua dimensione, cioè tu sei anche col poeta lì, tu sei col poeta, tu sei con la poetessa e non soltanto un uomo che fa tante cose ma scrive anche delle poesie. Qui c'era, mi ricordo anni fa, con Praia Budapest, un libro delle poesie di un famoso scrittore ungherese che ha vissuto anche in Italia e si diceva nell'introduzione di questo poeta, che non era noto come poeta, infatti in Italia le sue poesie non sono tradotte, che lui era un grande narratore ma scriveva anche poesie, non era poeta, lui stesso diceva di sé, io non sono un poeta anche se scrivo delle poesie, in Italia nessuno farebbe una distinzione del genere, tutti quelli che scrivono anche cinque poesie sono già diventati grandi poeti, abbiamo un po' questo bisogno, forse anche un po' così, è nostro, non dico infantile ma istintivo, culturale, identitario di presentarsi in questo modo. Comunque questo era giusto per introdurre alcuni elementi e alcune riflessioni. Ora io farei una domanda che rivolgerei a loro tre, anche perché io ho già parlato più che a sufficienza e loro vi daranno delle risposte sulla base appunto di un po' anche delle argomentazioni che io ho, delle piccole cose che ho detto. Dopo faremo un piccolo giro di letture, quindi ognuno di noi leggerà quei cinquanta minuti di poesia, giusto per fare una cosa veloce e poi vediamo se, devo vedere anche un po' il tempo come corre, se riusciremo a fare un secondo, io penso di sì, giro di poesie ma di letture magari un po' più breve e poi alla fine io lascerei volentieri, anzi con grande piacere, un po' di tempo anche per voi per riuscire a fare delle domande, anzi vi prego già di magari immaginare che domande vorreste fare a tutti o a uno solo delle persone presenti, insomma quello che volete voi. Quindi la prima domanda che io faccio a loro, io un po' ho già risposto a questa domanda che vado a fare, è che tipo di rapporto loro hanno con la loro poesia, cioè la amano, la odiano, gli da da fare, è una forma di espressione che l'accompagna con gioia nella vita, con gioia, con dolore, ci sono migliaia di sfumature, se uno non vuole fare la retorica del che bello essere poeta è solo meraviglioso, no? Ci sono in realtà sicuramente come tutte le esperienze umane anche dei momenti di sconforto, dei momenti di difficoltà, insomma e queste fanno parte delle motivazioni che poi uno può abbracciare e affrontare. Potete rispondere giustamente come volete, nel senso parlando di voi, facendo un discorso più generico oppure descrivendo qualcosa di concreto che è successo anche recentemente, eccetera. Ah che fortuna, sono la prima. Allora intanto grazie, sì non c'è problema, grazie Tiziano per l'invito e per aver organizzato questo evento e grazie alle persone che sono qui in ascolto per il loro tempo. Per quanto mi riguarda la poesia, per come la vivo io, ha un aspetto salvifico, non esagero nel dire ciò e l'ho conosciuta così da quando ero piccola in avanti come la possibilità di ridefinire il mondo e di dare voce e di dare forma a qualcosa che è innominabile. Quindi è una lotta continua per definire qualcosa che in qualche modo sfugge. E spesso si tratta anche di aspetti che riguardano esperienze anche traumatiche, che riguardano emozioni e sentimenti difficilmente raccontabili in altra forma. Sono contenta perché c'è il mio maestro delle elementari, che poveretto viene sempre a sentirmi a tutti gli eventi, al quale io devo un'enorme gratitudine perché fu il primo che in qualche modo mi trasmise questo amore e questa passione per la poesia. E negli anni, visto che tu dicevi qual è stato il percorso, io ho abbracciato un po' una posizione che si colloca nel mondo poetico in quella che oggi viene definita un po' l'area della poetry therapy, della poesia-terapia, cioè uso la poesia come strumento attraverso dei laboratori nei contesti in cui mi trovo a lavorare, ma non solo. Io in questo momento per esempio lavoro in carcere, prima ho lavorato con i migranti e porto avanti un progetto che si chiama Medicamenta, lingua di donna e altre scritture con un'altra scrittrice, poeta e psicoterapeuta che si chiama Valeria Bianchimian. Quindi per me la poesia è anche questo, è qualcosa da spendere nel mondo, da usare come strumento per dare la possibilità a chiunque di nominare appunto l'innominabile. C'è un bellissimo libro di Isabella Leardini di cui consiglio davvero la lettura che si intitola Domare il Drago, nel quale proprio si parla di questa potenza della poesia di ridefinire anche queste questioni così complesse. Ci sarebbero tante altre cose da aggiungere perché chiaramente un percorso nel mio caso decennale non si riassume solo con questo aspetto, però mi sento di mettere l'attenzione esattamente su questo perché ci credo moltissimo e credo che le persone che scrivono poesia dovrebbero uscire un po' dalle torrette d'avorio di certa letteratura, da certi ambienti e andare nel mondo e frequentare persone che hanno proprio bisogno di ascoltare e di scrivere poesia e quindi credo che sia questo un po' una missione anche di chi scrive poesia, di chi fa poesia perché per quanto mi riguarda la poesia ha una valenza anche etica e mi faccio. Grazie mille, noi non l'abbiamo concordato niente tra l'altro, quindi sono tutta sorpresa. Poco ma vabbè, a parte questo, io ho voluto ma abbiamo parlato insieme, non dire le biografie se vi interessa, ampiamente sono disponibili nelle lettere, però perché sembrava una cosa un po' già, se c'è un poeta è un conto ma stiamo essendo in quattro sembrava una cosa un po' pesante e anche probabilmente un po' ripetitiva, quindi invece così scopriamo, ovviamente se conoscete già un po' la storia di qualche poeta è una cosa ma per gli altri magari anche il fatto che prima parlino loro può aiutare a entrare direttamente in contatto con il vivo insomma del poeta. Valentino? Dico poche cose, amo la poesia sì ma la odio pure perché comunque al di là degli esiti della mia produzione più o meno buoni però la mia mente è un po' dominata da questa cosa qua, dominata nel senso che arriva alla monomania, purtroppo è così da un po' da sempre, da quando ho capito che era una cosa che mi riusciva bene, però poi alla fine purtroppo è diventata quasi una dipendenza, quindi l'amo e la odio un po' insomma, però quello che noto e per questo sono anche poco bravo un po' a amministrare i miei libri, far pubblicità insomma, ma di questo non mi vanto perché dovrei farlo e quando nel momento della scrittura, nel momento della scrittura io mi trovo di fronte a qualcosa di misterioso, qualcosa che ha a che fare col mistero della memoria come col mistero del male ma anche col mistero del bene insomma e questa cosa mi riempie di vita e vorrei che questa vita in qualche modo ci fosse, si presentasse nei miei versi e venisse colta, venisse capita io penso che comunque la poesia è un grande viaggio nell'interiorità, nell'intimo, nel più intimo di se stessi e si spera e spero che questo viaggio venga assolutamente condiviso, non ho più queste grosse aspettative, almeno che le abbia mai avute insomma, però questo sì, questo sì e sempre Grazie Valentino Valentina? A me, intanto grazie Tiziano di nuovo per la generosità nell'averci accolto qua in una città che non è la sua ma è che come dice un cantautore genovese adottato qua, difficilmente non adotta nessuno, un po' come lui lo dice di Genova e io a volte lo dico un po' di Torino che a volte forse non è così accogliente con gli stranieri e io mi sento una straniera un po' ovunque quindi amo questa città e allo stesso tempo mi sento una spatriata ecco, che cos'è la poesia per me e quanto è, io sono, ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia di musicisti e questo lo dico sempre e non ho scelto questo destino che io ho trovato meraviglioso nella mia vita perché mi ha permesso di avere a che fare con l'arte da quando ero piccola e proprio di recente mi trovavo a cercare di spiegare che cos'è un po' la mia vita perché quando io parlo della poesia parlo della mia vita e io dico sempre che è un destino, non si sceglie, la musica così come la poesia è un destino l'arte sceglie qualcuno e quel qualcuno ha il dovere, una volta che incontra l'arte, di esserle fedele per tutta la vita e questo è un destino molto impegnativo io trovo, è una sfida con il fuoco per cui è qualcosa che è elettrizzante, eccitante e dall'altra parte molto frustrante perché è una sfida con l'assoluto e la sfida con l'assoluto è qualcosa che non porta mai a un risultato finale questo per me è stata anche l'esperienza con la poesia così come con la musica dove ogni interpretazione, ogni composizione poi non è mai finita perché potrebbe essere migliorata è lo stesso in poesia, questo arrivare e non arrivare se li penso anche a Ungaretti che ha rivisto, rifatto le sue poesie nel tempo, ha ritagliato tutto è quello che forse ogni poeta fa quando si rilegge cioè rinnegarsi, ritrovarsi, ricostruirsi e forse è anche un modo per ritrovarsi, fare arte quindi per me fondamentalmente la poesia è una forma di vita mi ha permesso di mettere a fuoco come mi ha insegnato quello che è stato il mio maestro che è stato un incontro, ha giustamente detto Tiziano gli incontri, gli editori che abbiamo incontrato nel mio caso è stato fondamentale il maestro che ho avuto che quando io ho incontrato mi ha detto che bellissima poesia, la dovresti tagliare per me, cioè metà la dovresti togliere e io ci rimasi malissimo e pensai immediatamente che ero una fallita e dovevo interrompere il mio percorso, ma da lì è nata una collaborazione che mi ha permesso di crescere sono stata severa come mi aveva insegnato anche la musica ma la poesia io pensavo fosse, non avesse il diritto di parola ecco, cioè qualcuno non potesse dirci dall'esterno sostanzialmente è orribile perché la poesia, non vai in un'accademia a fare poesia hai dei maestri, impari in bottega, ma arriva e tutti potenzialmente potremmo provare leggendo tanto e quell'incontro è stato fondamentale perché mi ha insegnato ad essere molto autocritica e ad esserlo sempre nella mia vita con la poesia quindi scrivere, riscrivere e stare molto in silenzio per avere qualcosa da dire perché per avere qualcosa da dire bisogna ascoltare e saper stare zitti e quindi questo ma adesso io la domanda la faccio a Tiziano Fratus quindi che cos'è? Tu che? Io ho già parlato abbastanza non è un pari assolutamente no, no, grazie passiamo alla lettura delle poesie così magari già anche con quello rispondiamo perché poi alla fine siamo qui per parlare e dare la nostra testimonianza, diciamo, piccola mi ricordo a Teresa Nazare che diceva non so se ve la ricordate che diceva sempre testimonianza è una parola un po' forte sarebbe meglio, come dire, usarla veramente il meno possibile quindi diciamo che raccontiamo quello condividiamo quelle che sono le nostre esperienze allora io passerei proprio alla lettura delle poesie anche perché in realtà siamo già a 25 scusate se guardo l'orologio ma è giusto per stare nei tempi civili insomma altrimenti noi sicuramente andremo veramente lunghi e quindi possiamo iniziare a fare una lettura di poesie fate penso che faremo all'incirca una decina di minuti ma non stiamo giustamente a contare per ciascuno e quindi io inizierei da te e poi vediamo se hai voglia te la senti? sì va bene io leggo dall'ultima raccolta che ho pubblicato che si intitola Tutta la terra che ci resta dentro una pozza di cielo i pendagli degli alberi tremolano in questo giorno che è un calendario ha nominato primavera e risucchia in uno slargo acceso tutta la terra che ci resta dove siamo mentre la notte entra sicura sulla destra e vira al chiaro che svanisce dove vanno le cose che si illuminano quando lasciamo un punto piccolo di fuga per non dimenticare di fiorire lungo la strada del ritorno all'estremità della notte le occhiaie ci confortano piccole chiazze di lune piene sul volto la redenzione del tunnel con i suoi boati corvini e le falene bussole è una strada d'alluminio che accoglie i nostri fantasmi a 150 km orari il rosetto di abbagli ed errori resta fuori da questa griglia di Herman le fucilate degli antinebbia e i rimpianti sono espunti si dà un elenco di cifre binarie o bianco o nero manca profondità a questo andare uno sguardo di insieme il talento di sopravvivere alle lesioni del buio è quel gesto che resta sospeso a metà l'addirittura d'arrivo di un progetto per un niente mancata il filo di capelli appeso come un sonaglio reattivo al primo dente del pettine la velatura di madre perla che omette le evidenze familiari del corpo precisamente è questa la dolenza che lasciano in sorte quelli che se ne vanno di spalle si avventurano dentro un budello argentio di zinco e fosfeni fino a un risucchio lattiginoso di luce e non sentono i nostri richiami avvoltarsi a rientrare oltre le soglie di vetroresina da cui li osserviamo perdere consistenza diventare ricordi dove ritrovare le loro orme di odori le ragioni della distanza i loro commiati grazie allora queste erano le letture dall'ultima raccolta tutta la terra che ci resta pubblicato da Vidia Vidia è giusto? di che città? dov'è che lavorano? nelle Marche è una casa editrice marchigiana come vedete anche gli editori tra l'altro ci sarebbe da fare tutto un discorso sugli editori di poesia che prima in realtà in parte ho minimamente sfiorato però vedremo magari di vedere se abbiamo tempo verso la fine di provare a parlare anche di questo che è un argomento in realtà non solo di ambizione ma anche in realtà sostanziale per quanto riguarda uno scrittore e quindi anche ovviamente un poeta insomma il rapporto umbilicale che si instaura nel tempo fra un poeta un artista uno scrittore e il suo editore che insomma dovrebbe essere la prima persona che crede in lui insomma a parte la mamma al papà insomma in qualche maniera però non è sempre così va bene per le letture chi di voi due ha piacere? Allora solo una parola il mio ultimo libro si intitola Il sogno ed è un libro non scritto in versi ma scritto in prosa in prose prose lirico-narrative diciamo diviso in quei tempi e niente però non ho tempo per dire di più insomma dico io una cosa che è pubblicato da Carta Canta che è una casa editrice emiliana e che tra l'altro ha come referente Davide Rondoni che è tanto legato anche a Torino ma anche in realtà a tutti noi nel senso che più o meno ha rapporti con tutti noi anche se c'è chi è più rondoniano e chi meno rondoniano io sono meno rondoniano ma insomma questa è una questione poi più personale Allora la prima sono delle storie che si incrociano eccetera ma chi lo vuole leggere poi lo leggerà la prima è ambientata a Bologna che la poi la seconda vedrò se legge la Bologna è la città dei miei studi ed è il mio lavoro al centro di poesia contemporanea ecco parla di un incontro con una persona a cui ho voluto bene che purtroppo ha avuto un tragico destino vogliamo che ti sento la poesia hai bisogno che ti ritengo se la fai prova a tremare tutte le volte ondeggio ai fianchi mantaloni rossi rossi i capelli i riccioli drammaturgia il professor Meldolesi lo interroga su Benjamin il dramma barocco è un periodo buono tente il legame tra Artaud e Strindberg sera tiepida alla scuola di teatro come è andata trente lode con lui farò la tesi bravissimo gioia lo abbraccia lo tiene dopo lezione la corsa la stanza i cuscini i fumi da desiderio abbandonarsi gli appartiene in quest'istante la vita Elide a maggio nel vento alla stazione lei luminosa al finestrino mattina piena sostare e in arrivo al binario 1 attesa dolcissima e in arrivo contemplare un istante la traccia della bomba il contorno la lapide i nomi la luce inghiotte brillano ancora i calcinacci ora la polvere di tutti i perduti grazie bellissima di cosa di essere qui e insieme si va via al di là nella luce non sono più lui e lei cancellati assoluti venerdì sera ristorante vicino al dose ordina prima tu prendi di più non sei a dieta silenzio buono pieno l'ultima volta davanti a lei l'appartamento le strisce le pareti sporche ti ricordi a maggio avrei voluto un altro bacio anch'io l'avrei voluto anch'io allacciano le dita le stringono si chiama martin mi porterà a berlino giorno di pioggia la madre gonfio di birra le urla addosso il gelo la pioggia trovata morta da due anni come una mummia ancora intatta abbandonata si chiama martin perdonami tu la colpa è anche mia questa sequenza è invece ambientata a Chieri la mia città e parla di un di un grande amore che purtroppo è durato poco capita figurati ce l'hai fatta hai aperto il mio cuore accanto a te se vorrai con la tua premura ce l'hai fatta il turno pomeridiano lavoragine mi hai portata a te un lampo sotto la doccia l'acqua tiepida la sala gremita applaudono si alzano i giorni nel sud sul prato fantasma mentre cercano rami luce la casetta bianca il megafono il fruttivendolo al mattino vapore sulle scale lasciarlo andare lui non torna spalancare il cancello non accorgersi dei vicini a un passo luce autunnale dov'è la casa lei tante volte intravista incrociata chissà ne avrà sfiorato magari guardato con amore o il filobus blu elettrico nella trepidazione nella sera profumata in quegli istanti l'infanzia appariva dal quartiere al centro passando per la stazione un istante la piazza si riveli un solo istante dimmi sento le stesse cose sono qui mi vesto che aspetto il chiosco il viale guardare l'orologio ogni secondo cosa vive innanzi a me cosa trascorre le madri i bambini la gratitudine sorridere lancette lentissime ombre calpestate la gioia sul punto di abitarlo eccola non lontano la raggiunge chiudere la portiera ti scosto la francia la mano grande il visino raccolto lentamente affidarsi poi stringerlo ti slancio verso la bocca preme la lingua si avvolge il primo bacio questo il precipizio dolcissimo riprendere fiato guardarsi negli occhi staccarsi mangiarsi di bacio quanto ti voglio bene tutto brilla compare ma quanto ti voglio bene tutto il mondo in quel momento accade grazie e ora Valentina Colonna che leggerà da Stanze di Città e Altri Viaggi di Aragno che è un editore torinese e che scommette molto sulla poesia che è presente in sala quindi siamo onorati ringraziamo anche l'editore per essere presente ovviamente la felicità cammina per strada con una bici scrostata e un vestito azzurro si solleva passando davanti al bar ai signori in velocità nella frenata alla svolta della piazza lei se ne va correndo col sobbalzo degli sguardi che si alzano va con l'aria tra le coste il manubrio senza sosta da solo in tondo nel paese si ciba dei muri bianchi della luce nei soffitti a cielo aperto con gli odori che diffondono di pranzo signore mio signore ogni respiro ancora mi è solo tutta vita in avanzo quanti anni ho impiegato per abbandonare le vite che quotidianamente crescevo quanto tempo speso a diventare altro a cercare un ricongiungimento ho dovuto attraversare interminabili confini per trovare le parole allargare le braccia a perdere ciò che amavo stringere più forte il mondo tutto il mare che dentro mi risuonava grazie io passo a Tiziano pensavo fosse una finta no? ok va bene allora adesso tocca a me ai me e ai voi tocca a me oggi come forse sapete oltre ad essere la giornata mondiale della poesia che ogni anno ci casca sulle spalle noi dobbiamo cercare di sostenerla un po' e anche la giornata internazionale delle foreste io da molti anni percorro questo piccolissimo minuscolo sentiero artigianale di che ho chiamato dendrosofia ovvero l'amore anche la conoscenza forse chissà mai un minimo di sapienza ma è sempre meglio dirlo con la minima convinzione rispetto al rapporto con le foreste con la natura con gli alberi e oltre ho pubblicato un po' di libri in questi anni soprattutto però di appunto di questa dendrosofia quindi sono viaggi alla scoperta degli alberi però la poesia è stata la mia prima radice insomma io ho sempre scritto poesia e prima Valentina raccontava dell'incontro col suo maestro che non mi ha capito chi è che è Rondoni hai Rondoni tu maestro aiuto e anche quelli non li scegliamo spesso no scherzo scherzo benissimo avevo intuito in realtà volevo fartelo dire ma avevo il sospetto di questa cosa va bene e e ho incontrato anch'io maestri Mario Luzzi giusto Giovanni Raboni che sono stati soprattutto Raboni è stato forse la figura per me che più si avvicinava all'idea del poeta tra virgolette maestro poi questa parola maestro sarebbe tutta da analizzare e da scavare insomma però e mi ricordo le telefonate che ci siamo fatti con le due lettere che ci siamo scritte era molto generoso Raboni ma anche Luzzi erano delle persone poi ho contratto tanti altri poeti molto meno bravi di loro che invece in quanto a avarizia erano sono campioni ancora oggi quindi ogni tanto penso non so se sia vero che se esistono dei grandi maestri in realtà sono spesso anche delle persone che hanno una generosità non dico migliori perché non vuol dire niente ma insomma che hanno una generosità che spesso il mediocre mi si perdoni questa brutta parola magari ha meno ecco però non voglio farne un'ideologia perché mi rendo conto che ci sono stati grandissimi artisti che invece erano molto più chiusi quindi insomma non tutti non tutti hanno questa avventura ebbene quindi questo rapporto che ho avuto all'inizio con loro ovviamente mi scrivevano e mi dicevano delle cose con grande leggerezza come era giusto che fosse ed io ero un po' bacchiato perché all'inizio devo dire che mi hanno abbastanza mazzulato non so se hanno fatto bene o male perché i risultati non saprei dire se siano buoni o no però sta di fatto che il rapporto con queste figure magnetiche che quando uno soprattutto è all'inizio un po' del percorso sono necessarie è stato anche per me come penso per tutti quanti un rapporto molto importante comunque questo rapporto poi alla fine in realtà i miei maestri come lo dico spesso anche i miei fratelli con fratelli del buddismo in realtà sono gli alberi per me i miei maestri non ne abbiano a male i veri maestri in carne ed ossa che ci sono anche in Italia fra i buddisti ma io lo dico sempre loro lo sanno che per me è la cosa più interessante più rinvigorente e anche più spaventosa è proprio andare a meditare nei boschi è una cosa che cerco di fare quasi tutti i giorni non sempre ho tempo o riesco a trovare il tempo per farlo però è un po' così è la poesia che vi leggo l'ho fatta un po' lunga quindi vi leggerò una poesia io li chiamo boschi miniati perché sono disegnati qua ve ne faccio vedere uno un travedere un vedere quindi hanno una forma che io chiamo la forma di seme di foglia di albero insomma si può dire tante cose o di pesce o di uccello chi lo sa e questa poesia si intitola Silva itinerante Silva itinerans io ho questo cognome fratus che ogni tanto mi comanda come un buon latino quindi non so perché tiro in ballo un latino improbabile che dovrebbe in qualche maniera dare un senso anche a quello che tra virgolette scrivo allora questa Silva itinerans o Selva itinerante fa parte di un libro questo l'ultimo che è uscito per quanto mi riguarda per Gribaudo e per Feltrinelli che si intitola Alberi millenari d'Italia che è un viaggio in Italia fatto per anni alla scoperta degli alberi più annosi che ci sono in Italia quindi è un lavoro non in poesie non in versi all'interno del quale ho anche inserito una serie di venature sia legate alla meditazione perché fa parte un po' del mio percorso e dall'altra parte proprio alcune poesie sono quattro boschi miniati che fanno parte di questo c'è un bosco che mi abita dentro un silenzio cantato e interminabile ruscelli che sgorgano e animali che corrono io non so chi sono ripete la voce io non so chi sono ma sento che c'è questo mondo di fine trama che abita un luogo senza confini qui nel petto nel cuore nella mente popola le ore del sonno e nutre le ore di pensiero ecco perché quando faccio ritorno nel bosco reale mi viene voglia di urlare di amare come ama una madre che non distingue un figlio da un altro figlio sono un bosco che cammina un bosco che radica es radica grazie allora io farei la seconda o facciamo il secondo giro di il tempo è veramente vola facciamo allora un secondo giro di letture e poi alla fine lasciamo qualche minuto anche per se avete preparato delle domande io spero sì delle curiosità siamo qua allora Silvia in caso di necessità rompere il vetro uscire dal campo recettivo seguire le coordinate che conducono alla curva dello stupore dopo una rotazione di 360 gradi favorire l'orogenesi della spina dorsale diritta per meglio fissare il teorema della creazione allenare il terzo occhio la ghiandola pineale il sesto senso darsi alla melatonina in giuste dosi alleggerire le pupille vedette dal vizio delle proiezioni trafugare la frenesia degli amanti e riprodurne gli aromi dilatare il quotidiano in campiture di bianchi perla non scambiare con nessun altro bene la scorza di protezione accettare l'imprinting di un animo bifido soprattutto individuare subito per prima fra tutte le altre evenienze l'uscita d'emergenza grazie se vuoi fare un'altra va benissimo vai no questa la leggo perché è la mia preferita lo so che non si dice ma non si dice forse che di un libro sia una poesia preferita però insomma questa lo è perforando la fibra sintetica che oscura l'orbita del sole scendiamo a precipizio lungo il rivo amniotico con la brina degli inizi addosso e le palpebre incollate portiamo l'impronta artica di monadi iscritta sulla pelle il freddo come una condanna così veniamo al mondo o scompariamo soggetti all'azzardo degli eventi fra scorie di arenile e uranio improvvise florescenze scheletri antropoidi e intelligenze artificiali assomigliamo alle falene saturnia e cobra che infuriano le ali confuse quando scambiano la luce al neon per un destino luminoso d'astri grazie Silvia Rosa Valentino allora queste chiamato il dittico della vigilia le parole del padre sono due due poesie che però trattano un tema che è molto presente anche nel libro in prosa il tema del padre e del suo ultimo tempo le parole del padre dittico della vigilia prima parte sotto terra il viola gli altari le stanze dell'avvento e nell'avvento nel viola i bambini aspettano un nuovo inverno a Torino notte piena ombre appartamenti i bambini sulle scale li spiano li osservano dalle porte socchiuse indecifrabili segreti ora tutti insieme la vigilia improvviso il richiamo dell'angelo suo soltanto la bambina angelo prima della neve quel padre accompagnatemi poi lasciatemi è stato con voi il mio cammino terreno ora è tempo con lei sola starò mi riunirò anche se fosse il niente subito saremo svegli saremo in pace ci consoleremo ci riconosceremo la seconda parte del dittico l'attesa ci siamo tutti il paesello di sempre scosceso illuminato appena baluginio invernale interstellare come intorno al focolare sfilano attendono l'uomo alto oltre la tenda la piastra si ingegna lascia sfrigolare il fumo sale lentissimo si innalza le tettoie e i ragazzi al piano sopra tutto spento tutto buio mentre il piccolo dorme lasciatelo stare ha fatto un lungo viaggio ombre mormorì l'attesa compiuta ma ecco siede il padre a capotavola stanco gli osserva abbiate cura di voi imparate a perdonare abbiate cura nuove ombre saranno valli più profonde altre strettoie intorno a loro la luce si esaurisce lontano il tempo grande inafferrabile vi dico una cosa è veramente un peccato sono anni che non nevica Natale grazie valentina dunque io leggo una poesia che come la prima che ho letto prima è ispirata dal Salento terra dalla quale in parte vengo costeggiamo fluide delle campagne le esplosioni di fiori gialli infiniti tra gli olivi poi il mare la pineta di luce affondare in tutto non ho appartenenza l'allegra sofferenza di abitare ovunque e il secondo testo che leggo è quello che chiude questo libro che io scrissi quando ancora si viaggiava si poteva viaggiare e si andava nei festival che ho avuto la fortuna di frequentare grazie anche alla piattaforma Versopolis nella quale ha inserito Tiziano Fratus anche che è una piattaforma dell'Unione Europea sì io non direi così con questo orgoglio però no però è una piattaforma che mi ha dato moltissimo se ci sono anch'io vuol dire no no nel senso che condividiamo un'esperienza che per me è stata fondamentale che mi ha permesso di conoscere tanti poeti e vivere la bellezza dell'incontro che permette la poesia che forse è una delle cose più belle che offre fare poesia ed in quei momenti in cui si è in un festival insieme per una settimana e improvvisamente si diventa amici di qualcuno che ci sembra di conoscere da una vita e poi probabilmente si pensa in quel momento che sia una persona che ci cambierà la vita e probabilmente perderemo come l'autore che incontreremo nel festival successivo e questa poesia chiude questo libro che parla di viaggi e fa così in questo vociare di mancanze che affollano i miei ritorni alle case originarie alle stanze vuote di domani ripasso i discorsi del mattino a colazione quando insieme ci troviamo a dividere gli spazi di solitudine assoluta le parole non dette in altre lingue sproporzionate per avere continuazione è un versare di vini di quantiere piene sedersi accanto al più vicino degli sconosciuti e farsi complice amante esiste una forza improvvisa tra i stranei che fa nascere il viaggio il sedile di treno lo spazio pieno sul palco o la pioggia amore stasera aveva più nomi e tu non sapevi degli austriaci con gli occhi di ghiaccio la forma delle bocche che restano senza baciare a sorridersi accanto a raccontarsi quanto non possono dire nei suoni come case ci incontriamo come famiglie a trovare una pace dovunque queste sere gli amori hanno frontiere un cambio di lingua per tacere ma in corridoio sulla porta voltando a cercare il vuoto è piombato delle parole del sole di quando scoppia il tuo riso e mi guardi l'attesa di tutto ancora l'assenza un domani che si perde nella stanza grazie allora grazie Valentina allora se l'altra la seconda poesia che io vi leggo invece si intitola Rivus Ambulator mi faccio rivedere da solo va bene il ruscello vagabondo è meglio poco meglio sui titoli dovrei lavorare però lasciamo stare con quale lingua noi vi dovremmo parlare noi acque noi che non siamo una ma nemmeno tante siamo acque senza testa e senza cuore acque solo acque che si mescolano e rimescolano ad altre acque nessuno ricorda quale sia stata la prima acqua che ricadendo dalla cima del monte dopo il diluvio abbia generato altre acque nemmeno sappiamo se sia stata una soltanto come capitano a tante cose che abitano questo mondo in continuo divenire noi cadiamo nella nostra natura finché non ci placchiamo nei laghi negli stagni nei mari senza fine impariamo da ogni incontro e ci modelliamo secondo il bisogno voi ci rapite ci separate e ci prosciugate ma noi siamo capaci di non darci per vinte noi le acque di acque grazie 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 grazie